Una lotta con la burocrazia per consegnare alla città nuove opere pubbliche. Nell'aggiornare i cittadini sullo stato dei lavori pubblici a una cera superiore, il sindaco Giovanni Maria Cufano pone l'accento sull'allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori pubblici che vorrebbe abbattere. Tempi che in alcuni casi si allungano a causa della burocrazia. Ritardi di consegna delle opere dovute ai cosiddetti tempi di attraversamento, vale a dire tempi morti di ordinaria burocrazia che si perdono nel passaggio da una fase all'altra. Purtroppo la burocrazia italiana e i tempi delle gare tra la giudica e poi l'effettivo contratto che viene stipulato con le amministrazioni porta ad avere una tempistica un po' più lunga rispetto ai tempi che noi vorremmo fossero molto più celeri. Ad esempio abbiamo già il mattatoio consegnato all'impresa ma l'impresa non ha ancora iniziato i lavori e speriamo che al rientro dalla fase estiva questi lavori possano finalmente iniziare per dare all'ex mattatoio un volto nuovo e come ben sapete ospiterà il comando di Polizia Municipale e la sede di protezione civile. Abbiamo altri finanziamenti in arrivo, li abbiamo annunciati tempo fa, anche qui attendiamo la firma del decreto per il finanziamento di via Vincenzo Russo che avrà un restyling completo che farà il paio con il lavoro che sta per avviarsi della piazza Marco Polo e abbiamo poi il completamento di via Alcinele Casperi e via Santornato e abbiamo dei lavori su via Porta Romana, via Firenze, via Grotte, Santa Maria Maggiore, Mazzini quindi sistemeremo gran parte della viabilità cittadina. Abbiamo ancora altro da fare però più che annunciare le cose che faremo cominciamo a vedere realizzate queste.